Sarebbe bello poter tornare indietro nel tempo. Il problema è... Tornati entro. Torno dietro. Quindi posso tornare indietro nel tempo. Che ci fai solo con 60 secondi? Se avessi puntato 1000 euro un minuto primo, ne prendevo 80 mila. Go Florenzi! Go! Renzi! 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 Go! Venu. Ma che cazzo vedi con due volte? Ma dove hai questi cazzo nei caviglie? Questa è la moda giovane, la chiamano moda hipster. Ah, è così, bitch, è così. Chi ha il tuo gioielliere, bitch? È peggio lato tuo fratello, eh? Mazza che pippa! Vedi quando divento chef? Voglio diventare cattivo, ma trattare i rivali come quelli della televisione. Sta a sentire. Ah, Singh, hai pulito quel cazzo dei padelle? Oh, la Scania non rompe palle? Tres. La Scania non rompe palle. Non rompe palle si potà. La scania non rompe palle! I